Si lavora spediti per la 49esima edizione del Carnevale agropolese, previsto per domenica 23 febbraio e martedì 25 febbraio. La tradizionale spilata dei carri allegorici del 25 febbraio partirà come da tradizione dal lungomare San Marco, per arrivare nella centralissima piazza Vittorio Veneto, mentre quella del 23 febbraio partirà da via salvo d'acquisto e arriverà sempre in piazza Vittorio Veneto. Oggi sono venuto a trovare gli amici carristi nei capannoni che stanno lavorando per mettere in campo la 49esima edizione del Carnevale di Agropoli. Dissiamo le date, domenica 23 febbraio e martedì 25 febbraio, le sfilate dei fantastici, famosi carri allegorici. Ora siamo qui proprio per sapere a che punto siamo, Sergio, con l'andamento dei lavori. Diciamo che si procede spedito, siamo a buon punto per il tempo che abbiamo a disposizione. In questo siamo ancora alla fase del ferro, sa che comunque ci sono varie fasi, il ferro, la carta, la colorazione. Possiamo dire che ad oggi stiamo a buon punto, però bisogna lavorare. La passione dei carristi è davvero contagiosa. Sono loro la vera anima del Carnevale. Viene voglia di venirli a trovare tutte le sere. Lo faremo. Li facciamo in bocca al lupo per un ottimo lavoro e vive il Carnevale. Grazie. 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 Grazie.